Nord contro Sud, chi finisce un kebab da un metro vince 100 euro Regole, non è una sfida a tempo e avete a disposizione mezzo litro per acqua per uno, chiaro? 3, 2, 1, VIN! Io voglio il kebab La cosa più buona è decisamente la pianeta Per buona informazione sono passati 3 minuti Vedete che questi non sono 90 anni fa, io me lo sto godendo Io voglio il kebab Pari! Che succede, Rulo? Poi mi sapevo che male Che stupido, non si beve durante una challenge, è glorissimo E insomma ragazzi No, Luca si ritira, Gianna ancora in gioco Ragazzi non avevo mai visto uno che lo finiva di mangiare con lo gioco Andiamo qua di cantare dal portafoglio Non pensavo che qualcuno li avrebbe ricevuti Non mi mangio pure quello quanto mi fai Io non voglio che lo mangio pure che ti fai male Alla offra Aggiungi l'altro 50 euro, bravo No! Fallo! No!